Adesso la palla per Tyreek Jones vuole esplorare l'uno contro uno su Nick Berkins Incolla perfettamente il perno e poi mano e le... La risposta di Pesaro sempre dalle mani, passando per le mani di Carlo Telfino Subisce il contatto e poi lascia morbidamente la palla Eccoci qua E dall'altra parte Jones, perfetta parità 484 Qui rimessa tutt'altro che bene eseguita da parte di Cepoli, scappa via